L'Univoc, l'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Cecchi, cerca volontari in provincia di Torino. A lanciare l'appello è la sezione provinciale, ne parliamo con la Presidente Laura Nanni. Noi sulla carta diciamo che ci sono circa 80 volontari iscritti, però poi chi lavora veramente sono sempre molto pochi, parliamo forse di 20-30 persone, perché soprattutto il non vedente preferisce muoversi in macchina e con le macchine ne abbiamo pochi. Comunque riusciamo abbastanza a risolvere la situazione. Le richieste sono sempre maggiori, quindi abbiamo bisogno sempre di più gente. Quali sono le caratteristiche che occorre avere per diventare volontario Univoc? Le caratteristiche, diciamo, aver compiuto i 18 anni, poi non abbiamo altri problemi. Devono, almeno chiediamo una volta a settimana, tre ore o mattino o pomeriggio, non ha importanza. L'importante è che sia considerato che almeno una volta a settimana siano disponibili. Se poi c'è chi ci dà più disponibilità, noi ben venga, perché abbiamo qualche volontario che veramente fa il sovraccarico di accompagnamenti. A volte non è neanche giusto forse, però per risolvere le situazioni si fa quello che si vuole. E allora, oltre a lanciare l'appello, diciamo che cosa bisogna fare per diventare volontari? Trefonare a Laura al 333-777-3309, oppure anche inviando un'email al univoc.org, scrivendoci e chiaramente risponderemo, prenderemo contatti per un eventuale primo incontro. Grazie a tutti.